Avrà inizio lunedì mattina la fase dibattimentale del processo a carico di Gianni Pacello, accusato dell'omicidio colposo di Daniele Pacello, 19 anni, Giovanni Femminella, 16, il fratello Nicola, 22 anni e Luigi Pacello, 15 anni, fratello dello stesso Gianni. Stiamo parlando della strage di Silla di Sassano e dell'auto condotta da Gianni Pacello che uccise i quattro ragazzi investendoli davanti al New Club 2000. E' infatti prevista nel Tribunale di Lago Negro l'inizio delle udienze durante le quali verranno ascoltati i circa 60 testimoni di accusa difesa e parte civile. I primi a deporre saranno i testi dell'accusa. Il giudice del Foro Lucano ha disposto una corsia straordinaria per questo processo e quindi le udienze si susseguiranno a ritmo alto per cercare di concludere nel breve tempo l'ascolto dei testimoni e quindi andare a sentenza. Durante la scorsa seduta si ricorderà il PM Francesca Freschi a respinto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 8 mesi presentata dal legale di Gianni Pacello.